Domenica alle 12.30 Catania in campo per il primo impegno del 2021 contro la Casertana al Pinto. Come sta il Catania e che tipo di avversario troverà sulla sua strada? Sicuramente quando si entra dopo la sosta sono sempre partite un po' particolari. Abbiamo cercato di continuare sulla stessa fassa riga, di lavorare bene. Io credo che la squadra abbia fatto un lavoro fatto anche bene, con entusiasmo, con la giusta concentrazione, la solida per questa partita. Quindi mi auguro di vedere il Catania che abbiamo visto in quasi tutto il campionato. Per quanto riguarda la Casertana sicuramente è un campo che già c'è ostico per tradizione, dove non si è mai vinto. E quindi dobbiamo anche andare contro la cabala, però questo poi lascia il tempo che trova. Sicuramente invece è una squadra che dalla cintola in su è molto intraprendente, perché si permette dei giocatori anche importanti per la categoria, come Castaldo, come Pacilli, come Cuppone. Hanno preso anche Turchetta, adesso sono ottimi elementi. E anche un centrocampo di qualità con Izzillo e Icardi. Quindi credo che sia una squadra da prendere con le molle. Non dobbiamo assolutamente fare l'errore, come non abbiamo mai fatto, fra l'altro, di sottovalutare o di guardare la classifica in base ai nostri impegni. Sarà una partita ostica e in più, ripeto, nonostante sono contento del lavoro che hanno fatto i ragazzi in questa settimana, dopo la sosta è sempre una partita un po' più particolare. Abbiamo già risposto alla prima domanda di Fabrizio Longo, come ha trovato i ragazzi alla ripresa degli allenamenti. Longo le chiede anche se arriveranno rinforzi a gennaio un punto sul mercato, che chiede anche Dario Conti per tutto C. Quando ho chiesto ai ragazzi in questa settimana, soprattutto questa che ci avvicina, ripeto, perché ci è stata la sosta e ci siamo rivisti, di pensare soltanto all'impegno. Siamo a venerdì, quindi non gradirei non rispondere in questo momento a domande sul mercato, per rispetto anche di quello che ci siamo detti dentro lo spogliatoio con i calciatoi. Dobbiamo pensare assolutamente a questa partita, dopodiché sappiamo tutti che c'è una situazione in essere. In base a quella situazione in essere, credo che ci sarà tempo e modo per pensare a come andare a rifinire questa squadra. Tra l'altro, mi sono già espresso precedentemente, credo che questa squadra abbia bisogno delle persone per avvalorare ancora quanto questo gruppo ha dato, quindi da supporto per quello che ha dato questo gruppo. Quindi mettiamo da parte il mercato, pensiamo alla partita, poi da lunedì vedremo, anche con altri aspetti che riguardano oltre il mercato, com'è la situazione in evolversi. Ancora Dario Conti per tutto ci, propositi per questo 2021? Propositi, quelli di sempre, di avere continuità, di avere grande voglia di essere performanti, di andare a aggredire ogni partita per cercare di guardare in alto, quindi con una presunzione giusta, quella che ti dà il sapere di essere adesso una squadra che, oltre che in salute, che ha molte più certezze, ha recuperato anche, se non al 100%, i giocatori rosa, quindi che possono essere sfruttati anche durante la partita, ma sicuramente se non ci saranno intoppi, come io mi auguro, nel tempo, questo gennaio ci favorisce perché ci sono quattro partite a cadenza settimanale, non ci sono partite in mezzo alla settimana e quindi si arriverà ad avere giocatori nel breve termine, nei 15 giorni, che sono già a un livello ottimale, anche fisico, quindi sempre quello, cercare di dare sempre quel cosiddetto in più per alimentare poi l'ambizione che tutti abbiamo. Stefano Auteri Catanista, come sta Clayton e se c'è la possibilità domenica di rivederlo da titolare? Clayton si è aggregato per due giorni con la squadra, è normale che viene da un periodo dove è andato in campo anche fino alla Cavese per due o tre partite non essendo al meglio, poi si è fermato, adesso ha bisogno di riprendere una condizione di un certo livello, quindi si è aggregato, ha fatto una seduta, non del tutto intera con la squadra, credo che la prossima settimana ha ancora qualcosa da rifinire per tornare al meglio poi con il gruppo. Tra Sarau, Reginaldo e Pecorino, chi parte avvantaggiato in avanti? No, no, ma con le partite con i cinque campi, come si è visto, non c'è la partita, a volte la condizione, a volte la lettura tattica di una partita, a volte diciamo che quasi mai ce l'abbiamo avuti tutti e tre insieme al 100%, quindi l'importante è avere, poi durante la partita sicuramente sono armi che possiamo sfruttare al meglio, decideremo poi, ripeto, in base sia alla condizione sia al tipo di movimenti che vogliamo anche fare, sono attaccanti con tipologie un po' simili e un po' diverse, quindi devo essere bravo a cercare di metterli nelle condizioni, poi di sfruttare il massimo quando sono in campo. Le domande di Massimiliano Giliberto per la Gazzetta Catanese, si torna a giocare dopo 18 giorni, cosa ha detto ai ragazzi per ritrovare la concentrazione dopo questa lunga pausa? Già credo di avere risposto in parte, di continuare in una certa maniera, di non pensare assolutamente a cose esterne al campo, perché poi veniamo valutati per quello che facciamo la domenica. È normale che in questo mese ci saranno tante voci, ci sono soprattutto qui, in questo momento è normale che ci siano voci, a parte il mercato, anche diverse, però io ho visto i ragazzi concentrati, li ho visti bene, li ho visti motivati, ho visto il solito gruppo che ha voglia di lavorare con lo scopo poi di arrivare alla domenica, e di portare dentro al campo la maggior parte delle cose che facciamo. C'è anche un avversario e quindi dobbiamo essere bravi dal punto di vista tecnico, tattico e agonistico. Fuori casa abbiamo un ottimo score e mi piacerebbe vedere, a prescindere dal risultato, che lo ritengo sempre la cosa più importante, ma questa padronanza che stiamo avendo nelle ultime partite, ma che abbiamo avuto anche in precedenza, di tenere il pallino del gioco, di cercare di fare la partita, rischiamo molto poco, nelle partite anche dove siamo andati sotto a Viterbo, siamo andati sotto con l'unico tiro in porta della Viterbese, e poi siamo riusciti a ribattare la partita. Quindi voglio vedere questo spirito, a prescindere dagli episodi che succedono in campo, di credere fino al 95esimo nell'obiettivo di andare a raggiungere il risultato che ci serve. L'orario inconsueto della gara l'ha portato a modificare l'avvicinamento? Sì, abbiamo lavorato tutta la settimana in orario partita, praticamente, per abituarci. È un orario molto insolito per noi, e quindi abbiamo cercato di avere questa idea per abituare i ragazzi a questo orario di partita. Sicuramente non è il massimo giocare alle 12.30, però. Se ci vogliamo abituare anche a grande calcio funziona così, quindi va benissimo, non sarà mai un alibi o niente del genere. Si gioca a questo orario e si deve giocare come sempre. Martino Schillaci per Informa Sicilia. Si tratta della prima sfida del 2021 ed è in trasferta. Lei pensa che questa sia una buona palestra per rafforzare l'atteggiamento mentale della squadra da qui alla fine del campionato? Io credo che la squadra deve continuare ad avere questo atteggiamento mentale. Quindi ogni partita sarà una palestra, perché questo è un campionato che non ti lascia... Abbiamo gennaio che ci consente di preparare una partita settimana, poi riprenderemo di nuovo con un grande ritmo di partite. Quindi è un campionato che non ti lascia respiro e dove devi stare sempre sul pezzo. E' quello che dico sempre, è una continuità importante, ma anche quando si è caduti poi si è ripartiti in una certa maniera. Quindi bisogna essere al di là del risultato, che noi tutti ci auguriamo sempre positivo, ma dobbiamo essere sempre coscienti delle nostre forze. Quindi la palestra è ogni allenamento e ogni settimana. Riprendere dopo una sosta, lo ripeto per l'ennesima volta, è una partita dove qualcosina in più di dubbi alla vigilia te la dà rispetto a una cadenza normale. Al di là delle voci di mercato, che risposte stanno dando Pecorino e Biondi in questi ultimi allenamenti? Ma non credo che Pecorino e Biondi, anche perché per alimentare il proprio valore poi bisogna dimostrarlo sul campo. Se si sono meritati degli apprezzamenti in giro per l'Italia, per le loro prestazioni, devono continuare così e sicuramente aumenteranno. Io credo che già giocano in una grande piazza e quindi con le loro grandi prestazioni anche chissà che il loro futuro non sia in categoria superiore, ma sempre in questa grande piazza. L'ultima domanda riguarda l'infortunio di Pinto, visto il quale può essere Zanchi un'alternativa da largo a sinistra oppure Albertini con Calapai sulla fascia opposta? Praticamente l'infortunio di Pinto, diciamo che il ragazzo, come già avevamo sempre detto, anzi mi preme sottolineare questo, che lo voglio ringraziare perché per due mesi, per tutte le problematiche che abbiamo avuto, anche se spesso per 50-60 minuti, ha cercato di dare il suo grande apporto stringendo i denti. Quindi un professionista assolutamente da elogiare per quello che ha dato. Adesso con la sosta, col Catanzaro purtroppo, prima di uscire, ha preso un altro, sulla stessa ginocchia, ha preso un'altra piccola torsione in uno sconto di gioco e si è evidenziato che per guarire completamente ha bisogno di, diciamo, due o tre settimane, poi si valuterà i tempi, credo che con lo staff siano quelli, per averlo finalmente al 100%. Quindi nel momento più difficile ci ha dato un grande aiuto, adesso possiamo avere qualche altra soluzione. Naturalmente la mancanza di Giovanni, non me ne voglia nessuno, ma si sente quando manca. Però dobbiamo essere bravi. Zanchi lo può fare tranquillamente, che si può adattare sul ruolo naturale. In questo momento, raggiungendo poi anche la forma degli altri difensori, vedremo come adattare questa situazione. Sono tranquillo, i ragazzi hanno dimostrato sempre che anche nell'emergenza si sono sdoppiati, sono andati oltre, ormai è una virtù che abbiamo. Gradirei, certo, avere tutti i giocatori, ma non piangerò mai. Sottolineo la grande importanza per noi e per Giovanni, ma sono sicuro che chiunque giocherà ha lavorato bene e ci darà un apporto determinante, perché tutti sono dentro al gruppo per dare qualcosa in più, per continuare a cavalcare questa classifica che diventa importante, ripeto qua, importante per tantissimi motivi, ma insidi anche i motivi nostri, di ognuno di noi, perché stare in alto, sicuramente in una piazza come Catania, più in alto si sta e più si alimenta un entusiasmo, che è quello che noi tutti vogliamo.